marco petrini l'amatissimo dottor pet è morto a soli 37 anni stroncato da un male incurabile non era solo un veterinario molto apprezzato ma anche una vera e propria star del web con quasi 70.000 follower su instagram e oltre 126.000 su tiktok chiara giordano e sgomenta i due avevano lavorato insieme in tv nel programma di team vision dottoressa giordi la 50enne ex moglie di raul bova gli dice addio sul social il dolore che prova è immenso e lo esprime con parole dolcissime dottor pet ci hai lasciato un grande vuoto ma sono sicura che i nostri amici del ponte dell'arcobaleno non ti lasceranno da solo in questo viaggio grazie per essere stato un compagno di lavoro speciale bravo preparato e sempre sorridente giordi sottolinea la giordano produttrice tv e veterinaria a sua volta la figlia di anna maria bernardini de pace accompagna il suo messaggio pubblicando una foto che la ritrae con lui il medico originario di tivoli era in servizio dal 2018 nella clinica veterinaria guidonia specializzata in animali esotici ha tenuto nascosta la malattia sino all'ultimo il suo ultimo post risale al 14 febbraio scorso gianluca marchetti direttore della clinica veterinaria guidonia nella quale petrini lavorava gli dedica un post toccante siamo tutti distrutti scrive sei sempre stato l'eccezione alla regola il cuore oltre l'ostacolo il paroliere della serata vorrei che tutti sapessero che profondità umana c'era sotto la corazza da istrione che ti eri finemente costruita addosso personalità unica che non può passare inosservata tu con i tuoi tormentoni le frasi fatte le intuizioni i versi gli anatemi le espressioni ridicole le facce buffe da star scansonata il viso da bambinone e la voce da alberto sordi i modi dolci in un corpo da omaccione la sete di vita la voglia di entrare nel cuore di tutti uno spessore umano e culturale non comune celato dietro triviale voglia di cogliere la battuta più ardita e di travolgere le persone con la tua ilarità personaggio straordinario ed unico in un mondo ancora più povero da ora in poi grazie 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 grazie